Ieri finalmente la convenzione col Calcio Napoli, un traguardo a cui il Comune ha lavorato da tanti anni. Siamo molto soddisfatti di questo obiettivo raggiunto che a tratti appariva anche isperato. È un documento importante che regolamenta in maniera efficace, concreta, trasparente e corretta i rapporti tra lo stadio della città e la società Calcio Napoli per i prossimi dieci anni. Quindi chi la vuole leggere troverà contenuti, troverà prospettive, troverà opportunità, regole, risorse economiche che entrano nelle casse del Comune, ma anche possibilità alla società di avere maggiori certezze. Quindi è un ottimo accordo, siamo contenti e ci auguriamo che questo possa rendere ancora più floride le relazioni tra la società e il Comune di Napoli.